Good morning a tutti voi e buona giornata, buon sabato. Siamo al capitolo 17 di Matteo al versetto 10-13. Allora i discepoli gli domandarono perché dunque gli iscrivi dicono che prima deve venire Elia. Ed egli rispose sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico Elia è già venuto. E mi sono di nuovo perso, mamma mia. Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi hanno fatto di lui quello che hanno voluto, così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli compresero che gli parlava loro di Giovanni Battista. Ci attenderemmo talvolta nella nostra vita dei profeti. Ci attendiamo dei profeti perché ci possano dire quello che dobbiamo fare, che in realtà non è così. I profeti non ci dicono, non prevedono il futuro. Ma certamente ci sono delle voci profetiche, nella Bibbia è pieno di profeti che però hanno avuto una vita piuttosto complicata, come Giovanni Battista che anche lui è stato decapitato, come in realtà Gesù. E come anche delle voci profetiche c'è delle voci che ci fanno intravedere per noi qual è il senso evangelico della vita. Che però, al di là delle parole nostre che ogni tanto diciamo, sono parole scomode perché ci chiedono di... ci chiedono la responsabilità, ci chiedono di metterci in gioco. Pensate a una parola profetica incredibile che è oggi presente e che è questo Papa. Questo Papa che gliene dicono di tutti i colori e non fuori della Chiesa ma dentro la Chiesa. Abbiamo una parola profetica che ci ha dato la laudato sì, che ci ha dato adesso, fratelli tutti, che ci ha dato la gioia di, come dire, di essere di essere il segno dell'unità dei cristiani ma di esserlo in modo semplice e in modo povero. E forse guarda che anche nella tua parrocchietta, nella tua parrocchia, nella tua comunità, nel tuo paesino, c'è qualcuno che ha delle parole profetiche, delle parole che sanno raccontare la vita. E allora che vuoi di più? Che vuoi di più? Comincia a seguire quelle. Bene, le cose belle della giornata di ieri ne dico semplicemente una perché abbiamo vissuto una diretta online insieme a Don Bavicio e Don Paolino Parole ritrovate. Andate a vedere questa diretta perché è interessante. La trovate sul canale YouTube Parole ritrovate. L'etimologia delle cose, cioè la verità delle parole. Mamma mia! I profeti hanno la verità delle parole. E poi se vi siete persi, sempre la seconda catechesi, Ascolta la vita, la seconda puntata la trovate sempre lì. Ale! Buona giornata a tutti voi. Per chi ne avrà la possibilità o l'esigenza ci vediamo alla Messa in streaming domani alle 10 e 30.